La rassegna stampa è offerta da Pama Arredamenti, zona industriale, località Sant'Antuono, Polla, Salerno. Buongiorno e ben trovati al nostro appuntamento mattutino con la rassegna stampa di Uno News. Andiamo subito a vedere quali sono le principali notizie pubblicate sui quotidiani. Questa mattina, giovedì 3 agosto, andiamo sul mattino nazionale. Si parla ancora del reddito di cittadinanza dopo lo stop arrivato al governo. Si cominciano ad intravedere già i primi effetti, in particolare per ciò che riguarda i lavoratori stagionali. Vediamo che il mattino focalizza l'apertura di oggi sulla prima pagina proprio su questo argomento. Vediamo il titolo, stop reddito, ecco gli stagionali, queste le parole con cui apre oggi il mattino nazionale. Effetto tagli, lidi, hotel e ristoranti ritrovano personale. Costiera sorrentina spinta al turismo. La ministra Calderone, 112 mila gli occupabili. Da settembre 350 euro per 40 mila famiglie. Queste le decisioni del governo ed ecco come abbiamo visto che si vedono già i primi effetti proprio per quanto riguarda il recupero di personale per il settore turistico che ricordiamo negli ultimi anni ha sofferto in maniera particolare. Lasciamo quest'argomento su cui torneremo anche nelle pagine successive. Parliamo ora di politica, l'autonomia, l'autonomia va a passo lento, emendamenti, voto a settembre, DDL Calderoli, i lavori parlamentari come proseguono. E poi il ricordo della strage di Bologna nel giorno dell'anniversario, Mattarella, matrice neofascista, Meloni, desecretare gli atti. Queste le richieste del governo. Andiamo ora di fondo l'analisi, gli interessi di categoria e i danni ai cittadini e poi la riflessione se cambia la politica estera centralizzata. Vediamo le notizie invece riportate a centropagina. La cronaca, il killer ripreso dalle telecamere di una TikToker, delitto di Pizzo Falcone, la svolta dalle immagini, i proiettili esplosi da un balcone, c'è un indagato. E poi il gesto di follia, statua dell'Ottocento fatta a pezzi dall'influencer, l'influencer tedesco Tim Denner e altri amici distruggono un'opera d'arte a Villa Alceo nel Varesotto per fare un video. La domina è finita spezzata a metà all'interno della fontana dove era posizionata. Per il calcio, ieri ancora le gare di preparazione per il Napoli. Vediamo Napoli senza osi, garanzia Ciolito, vittoria ai rigori con il Girona, centrale sprint per Kilman. Questo per quanto riguarda invece il calciomercato. Andiamo poi in basso, il personaggio Trump rischia 331 anni di carcere, Massi di Candida e poi la storia, la lotta di Vanda, così ho scoperto la malattia in tv. Questa è la prima pagina del mattino nazionale. Vediamo ora invece i principali titoli sulla prima pagina del mattino di Salerno. Continuano le polemiche per quanto riguarda lo stadio Arechi. Vediamo Arechi, tensione alle stelle, questo è il titolo, Curva Nord. Oggi l'incontro dal prefetto con Cardinaletti, arbitro, l'AD, batteremo i pugni sul tavolo. Stadio senza ospiti, la Lega A dice no al sindaco Milan, subito certezze o faremo da noi. E poi il dubbio, Salernitana in campo a Eboli, valuteremo con i supporter. Restiamo in alto, il giallo di Petina, quel cadavere senza nome potrebbe essere nostro figlio. Abbiamo chiesto alla procura di Lago Negro delle fotografie a colori alcuni elementi importanti da visionare per capire se il corpo del giovane trovato a Petina nel 2018 è quello di nostro figlio, ma non ci sono arrivate risposte da febbraio. Quindi insomma si cerca di dare ancora un nome al corpo ritrovato a Petina nell'estate del 2018. Andiamo avanti, andiamo di fondo. Il turismo, prenotazioni giù, ma ottimismo per Ferragosto sarà pienone. E poi la polemica, fondi del PNRR, Napoli attacca, così a rischio opere vitali. Le altre notizie nella foto, Martegani Granata è fatta e Bouliet lascia il ritiro. E poi a centropagina la Movida superalcolice alla sedicenne che sviene. C'è la denuncia, soccorsa dalla madre, non le hanno chiesto i documenti. L'episodio nel centro storico, la ragazza ricoverata a Ruggi. E poi troviamo l'intervista a Claudio Tringali, la scelta della mamma sia d'esempio. Proprio per tutelare i giovani che molto spesso, nonostante la loro giovanissima e tenera età, fanno abuso di alcol. Andiamo in basso, noceano inferiore, violenza sulla bambina nei guai dopo nove anni e poi nell'Occilento, porti e fondali inadatti, metrò del mare in bilico. Lasciamo la prima pagina del mattino di Salerno, vediamo i principali titoli per le cronache. Quindi andiamo sulla prima pagina del quotidiano salernitano. Vediamo come apre. Con il caso Limen si alza lo scontro, Magaldi smentisce il sindaco, il giallo della convenzione. Poi il forum dei giovani, l'attacco della Cisli, il comune ha costituito una scatola vuota. Per quanto riguarda invece la notizia di spalla, il fatto, multe, i cittadini di Salerno sono i più sanzionati della regione Campania, ancora a centro pagina. Bilancio, difficile riconoscere certezza, verità e realtà, a importi che appaiono poco attendibili. L'intervento di Alfonso Malangone al 30 aprile scorso, la popolazione salernitana è in decrescita. Le altre notizie, siamo in basso, l'inchiesta, falsi diplomi tra Salerno e l'agro, pronte condanne a raffica, ancora Pagani, l'assessore Sessa, distretto commerciale sarà una realtà. Mentre per quanto riguarda ancora i fondi del PNRR, intervengono il sindaco Napoli e De Luca Junior, Salerno perde lavori importanti. E poi, ancora, se in due o tre anni non ci sono certezze, costruiremo lo stadio altrove per la Curva Nord. Oggi incontro con prefetto e questore, portiamo una nostra proposta per riaprirla, l'incontro della di Milan con i tifosi, proprio per quanto riguarda anche le polemiche che in questi giorni continuano a tenere banco sul tema della Curva Nord dello stadio Arecchi. Torniamo ora sul mattino nazionale, andiamo ad approfondire i temi che abbiamo già visto in apertura, partendo proprio dalla questione del reddito di cittadinanza, che come abbiamo visto dal titolo del mattino, dopo lo stop arrivato dal governo, si cominciano ad intravedere i primi lavoratori, in particolare per questo periodo estivo. E vediamo il titolo per la riforma del reddito. Reddito in 112.000 possono lavorare apertura sui fragili, per proseguire quindi nel sostegno. La Ministra Calderone definisce la platea esatta degli attivabili, a segno di 350 euro già garantito da settembre per 40.000 nuclei. Alla Camera la replica a Conte Fratoianni state soffiando sul fuoco del disagio sociale. Allarme della Will sul personale dei centri per l'impiego servono 8.000 dipendenti in più. E poi andiamo in basso. L'intervista Roberto Santori. I corsi di formazione ci sono per tutti, ma serve uno sprint dalle regioni. Secondo il Presidente, formazione di UniIndustria bisogna accelerare sul programma Goal legato al PNRR. I corsi di formazione per far trovare lavoro a tutti i cosiddetti occupabili che stanno perdendo il reddito di cittadinanza ci sono. Serve solo più coordinamento tra le regioni, ma anche personale dei centri per l'impiego che cerchi direttamente i soggetti da formare e occupare. Ne è convinto Roberto Santori, amministratore delegato di Challenge Network e Presidente della sezione formazione, consulenze e attività professionali di UniIndustria. E lasciamo questa pagina, andiamo ancora avanti sempre su questo argomento. Andiamo ora proprio nel dettaglio sui primi effetti della nuova misura legata al reddito di cittadinanza, quindi alla ridistribuzione del reddito, con l'arrivo negli hotel, ma anche nei B&B, dove si cerca personale, in particolare durante il periodo estivo e durante la stagione turistica, dove si cerca personale, personale che ora è più facile trovare. Vediamo, spiagge, hotel e ristoranti, si rivedono gli stagionali. Questo, infatti, il titolo che dice, che spiega quali sono già gli effetti del sussidio, ricominciate le assunzioni e Sorrento ritrova miglia addetti persi dopo il Covid. Un anno fa il caso Napoli fece scalpore gli industriali, il mercato non è più fermo. Svolta agevolata anche dal boom di presenze di visitatori, sono aumentati gli stipendi. Vediamo ancora una parte dell'articolo per quanto riguarda proprio questo argomento. In migliaia tornano al lavoro c'è meno difficoltà di trovare dipendenti stagionali, che era stato uno dei problemi del turismo dal post-Covid da oggi. Riecco camerieri e baristi in locali e ristoranti, riecco uomini e donne delle pulizie o custodi notturni in hotel, ad avere invertito il trend rispetto al 2022 e l'effetto del taglio al reddito di cittadinanza. Se tra il 2021 e il 2022 i gestori di questi tempi avevano organizzato decine di colloqui che andavano spesso deserti, con il tramonto del sussidio, sono ora i giovani a chiedere di lavorare in sala o in reception. E andiamo ora in basso. Il rapport dell'ufficio studi della Camera può ripartire, pil più 1% quest'anno e nel 2024. Cauto ottimismo nella nota sulla congiuntura che considera anche il calo del secondo trimestre. Per l'ufficio parlamentare di bilancio positivo l'allentamento della inflazione di fondo. E ancora il prodotto dovrebbe tornare al segno positivo tra luglio e settembre grazie al contributo della domanda interna. E chiudiamo anche questa pagina. Andiamo avanti ancora per quanto riguarda la politica. Quindi cambiamo argomento, lasciamo il tema reddito. E vediamo, come abbiamo anche già visto dalla prima pagina, si registra la frenata per quanto riguarda il DDL Calderoli sulla autonomia differenziata. Vediamo autonomia, il DDL frena, voto sugli emendamenti non prima di settembre. Lavori a rilento a Palazzo Madama, manca l'occhè della Commissione bilancio. Al via la bicamerale per il federalismo, il leghista Veneto Stefani eletto presidente. E poi il carroccio punta a piantare una bandierina e chiede almeno l'ok per un ordine del giorno. La fondo dell'opposizione Calderoli spera in un trofeo prevacanziero. Andiamo avanti, vita di Palazzo, Renzi e Calenda, divorzio anche in Parlamento. Separiamo i due gruppi, già pronto il nuovo nome di Italia Viva, sarà Italia Viva centro riformista. L'addio dopo le polemiche su Tuiga e Premerato. E poi parla Fassino per quanto riguarda i compensi. Fassino agli anticasta, ma quali stipendi d'oro? Io prendo 4.700 euro, compensi rivalutati e polemica. Schlein prende le distanze, la Camera si divide sull'obbligo di cravatta. E lasciamo anche questa pagina. Ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, torniamo tra pochissimo, restate con noi. Bentornati con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Sfogliamo le pagine dei quotidiani salernitani. Andiamo sul mattino di Salerno, approfondiamo il caso della giovane che è svenuta dopo aver bevuto davanti alla madre. Prevediamo birra e cicchetti alla sedicenne che perde i sensi in strada. Denuncia e nuovo allarme. Così titola il mattino. La movida è il caso. La ragazza soccorsa è ricoverata a Ruggi. La madre non le hanno chiesto i documenti. L'episodio in un locale del centro storico, l'ho trovata io, era in stato comatoso. Ragazzina beve superalcolici e sviene all'esterno di un locale. È allarme movida, fuori controllo nel centro storico di Salerno. È quanto denunciato dalla mamma di un adolescente di appena 16 anni, finita in ospedale a Ruggi, in stato di ebrezza a seguito della somministrazione di alcolici da parte di un noto locale della città vecchia. La denuncia presentata alla questura fa riferimento a fatti avvenuti tra sabato 29 e domenica 30 luglio. La famiglia presenta un esposto in questura e i fatti finiscono sul tavolo del sindaco. Non ci saranno sconti per nessuno. Su questo argomento interviene Claudio Tringali. Il gesto della mamma sia ad esempio per tutti. Si profila anche un'omissione di soccorso. Superati i limiti, la nostra reazione sarà durissima. Quello che si è verificato pochi giorni fa nel centro storico di Salerno è un fatto gravissimo. Servire birre e vodka ragazzini è un'azione inqualificabile che assume una rilevanza penale doppia. Dichiararlo è l'assessore alla sicurezza del comune di Salerno Claudio Tringali. Andiamo poi in basso. Cadavere ritrovato a Petina nel 2018. Vogliamo sapere se è nostro figlio. Una famiglia pugliese chiede ai magistrati di fornire elementi utili per un raffronto con il ragazzo sparito. Ma nessuno risponde. La scomparsa è avvenuta il 19 luglio del 2018 a Petina. Un biker di Caggiano che stava facendo un'escursione sul Monte Figliolo ha ritrovato il corpo privo di vita di un uomo. Il decesso era avvenuto per le ferite riportate nel volo di diverse decine di metri. Al fianco del corpo uno zaino alto c'è un metro e 83 fisico atletico con gli occhi scuri, i capelli scuri, corti e ricci. La carnagione olivastra è un'età apparentemente tra i circa di circa 30 anni. Questa è la descrizione fornita dagli inquirenti del cadavere insieme ad un identikit in bianco e nero del volto del giovane. E lasciamo questa pagina. Andiamo avanti ancora sulle pagine del mattino di Salerno. Parliamo ora della polemica che è sempre più forte per quanto riguarda l'apertura della curva nord dello Stadio Arecchia anche in vista dell'inizio del nuovo campionato di Serie A per la stagione calcistica 2023-2024. ricordiamo nei giorni scorsi il sindaco Napoli aveva chiesto alla Lega di evitare le trasferte per i tifosi ospiti a Salerno una richiesta che come vediamo ora invece gli è stata negata perché infatti la Lega di Serie A ha risposto no alla richiesta del sindaco. e vediamo Arecchi senza ospiti tifosi la Lega dice no al sindaco. Nessun lavoro imminente. La PEC inviata da Cassini a Palazzo di Città la richiesta doveva partire dalla società. Stamattina l'atteso incontro in prefettura con il delegato Cardinaletti a fare da arbitro. l'ipotesi per riaprire la curva nord divisione longitudinale del settore o parcheggi nell'ex PIP con bus o navette. Insomma quindi si continua a fare ipotesi per poter garantire anche l'accesso all'interno della curva nord in vista della stagione calcistica. Andiamo in basso. Milan ancora stoccate certezze sullo stadio o potremmo fare da noi. La di Milan incontra i tifosi. Vediamo, vede i supporti dal centro pastorale. Pazienza finita. Al tavolo tecnico progetti concreti, non solo fotografie. Accuse anche su metro e impianto gruviera. Partite a Eboli valutiamo con voi e gli ultra parleremo in privato. E lasciamo questa pagina. Andiamo avanti ancora sul mattino di Salerno. Vediamo per le notizie provenienti dalla Piana del Sele, dai Picentini, dal Cilento e dal Vallo di Diano. Siamo in apertura ad Agropoli, quindi siamo in Cilento. Porti e fondali inadatti. Resta appesa a un filo la partenza del metro. Troppo grandi i mezzi di Caremar. Unico operatore interessato. Il collegamento via Male-Mare potrebbe non essere attivato. Si sperava di riuscire ad attivarlo almeno per il mese di agosto. Ma pare che anche per questo mese, quindi per il pieno della visita dei turisti con la settimana di ferragosto, potrebbe essere complicato far partire il metro del mare e far arrivare in Cilento con le tappe cilentane del metro. Cambiamo argomento. Accento la Palinuro. Accesso gratis alla spiaggia. Ma la sosta no. Il cartello era apposto in una delimitata area di sosta privata a beneficio di coloro che, pur volendo raggiungere la spiaggia libera e non il Lido attrezzato, intendevano però parcheggiare le auto gratuitamente nell'area di sosta privata. Tale cartello ha avuto lo scopo di evitare l'insorgere di spiacevoli equivoci. Così i titolari del Lido, la Marinella, motivano il cartello che era stato affisso all'ingresso della nota. Andiamo a centro pagina. Violenza in Cilento. Infermiera aggredita dopo la sosta. E poi in basso, a battipaglia, l'analisi sui cedri di Piazza Aldomoro. Uno va abbattuto e scoppia la bufera. A Ebo l'Italia vive in consiglio. Tenta il sindaco Conte. Dopo una delle estati più calde della storia, anche l'autunno potrebbe essere caldissimo, soprattutto in via Ripa. Mentre il primo cittadino organizza la protesta contro la giunta regionale di De Luca, le forze civiche e politiche tirano i remi in barca, approfittando delle grane dell'amministrazione per mettere a punto strategie da utilizzare all'indomani dell'approvazione del bilancio previsionale. Le notizie di spalla. Ponte Cagnano Faiano ritrovato cadavere in cantiere. Ipotesi malore. Mentre ad Agropoli, domiciliari revocati, la porta torna in assise. E lasciamo le pagine del mattino di Salerno. Andiamo ora sulle cronache. Vediamo. Andiamo sulle pagine della provincia di Salerno. Siamo a Ponte Cagnano Faiano. Manca una programmazione estiva. L'accusa lanciata dai consiglieri di opposizione Bisogno dell'Angelo Ferro, Pierro Silvestri e Vecchione. La richiesta è iniziare già a lavorare ad un cartellone per il periodo natalizio. Bisogna saper coinvolgere enti, proloco e associazioni presenti. Andiamo in alto. Battipaglia. Il consigliere di maggioranza Francesco Marino annuncia l'adesione a Forza Italia. È il partito più presente e radicato sui territori. La soddisfazione del commissario cittadino Ruberto. Mentre in basso Ponte Cagnano Faiano, ancora trovato morto nel cantiere dell'ex cinema, 58enne senza fissa dimora di Olevano, aveva trovato un alloggio di fortuna nel cantiere di Via Po. Dramma a Ponte Cagnano Faiano, dove è stato trovato ieri mattina un cadavere all'interno del cantiere edile dell'ex cinema nuovo in Via Po. Si tratta di un uomo originario di Olevano sul Tusciano e secondo quanto si apprende senza fissa dimora. L'uomo di 58 anni ha lavorato come muratore, ma alcune vicende familiari lo hanno portato, soprattutto nell'ultimo periodo, a vivere una situazione tutt'altro che facile, che si è aggravata con la separazione della moglie. E lasciamo questa pagina ancora. Siamo sul quotidiano Le Crona, che vediamo le notizie ancora provenienti dal sud. Siamo ad Agropoli per quanto riguarda anche il reintegro di Massimo Laporta in Consiglio. Vediamo un consiglio comunale cruciale da sciogliere, no, di Serra e Laporta. Oltre 30 punti all'ordine del giorno per l'assise comunale, tra cui anche antiquarium, sicurezza, accessibilità e bilancio. Ed ora i due consiglieri dovranno prendere posizione sul loro futuro. Al via alle ore 8, al primo punto c'è la revoca della sospensione di Massimo Laporta nel ruolo di consigliere comunale. Siderà questa mattina il consiglio comunale ad Agropoli, diversi punti all'ordine del giorno, ben 32, ma tra essi alcuni molto importanti. E andiamo in basso, spazio alla fantasia per la difesa del fico bianco, lo lancia il neonato consorzio per tutelare il frutto. Chiudiamo anche questa pagina, passiamo ora alla pagina sportiva, parliamo dunque della Salernitana, vediamo come va il calciomercato, lasciando quindi da parte le polemiche relative all'utilizzo dello stadio Arechi. Vediamo, dia via dal ritiro, solo motivi personali. E poi arriva Martegani sabato già alla Arechi, questo è l'interrogativo. Il bomber senegalesi ha lasciato fiuggi, mentre la stella del San Lorenzo è virtualmente un nuovo calciatore granata. È corsa contro il tempo per portarlo subito a Salerno. La società mette subito a tacere i rumors, nessun guaio fisico, caso di mercato, ed intanto prepara l'arrivo dell'argentino. Motivi strettamente personali. Con questa frase telegrafica la Salernitana ha spento sul nascere qualsiasi illazione circa la partenza dal ritiro di fiuggi da parte di Bualè Deia, l'attaccante senegalese, alle prese con il recupero dall'operazione al ginocchio dello scorso maggio e al centro di tantissime voci di mercato. Ieri mattina ha salutato i compagni di squadra lasciando l'albergo e non svolgendo dunque la doppia seduta di allenamento prevista a cui in ogni caso non avrebbe partecipato a causa di qualche fastidio avvertito alcuni giorni fa. E andiamo poi in basso. Mazzocchi e Maggiore stanno meglio. Controlli per Bron, mentre per Allocca problemi alla schiena. Oggi porte chiuse. Inizia a svuotarsi l'infermeria. Buone notizie per i due centrocampisti ormai recuperati. E chiudiamo anche la pagina sportiva. Termina qui la nostra rassegna stampa. Noi ci rivediamo alle ore 13.45 con il TGD1 News. Grazie per averci seguito. Auguro a tutti una buona giornata. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie per averci seguito.